DAL PRODUTTORE E REGISTA DI CENTRALDO BRASIL Tutto ha inizio Tra due famiglie confinanti Con un litigio per la terra E diventa una spirale di violenza senza fine Ora, un figlio deve scegliere tra l'amore della sua famiglia E il suo cuore Quanto sei disposto a sacrificare Per essere libero? Disperato aprile